Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video contest in cui vi voglio fare un regalo, anzi due regali ragazzi, vedete la scritta Netflix e vi voglio regalare due account Netflix. Allora come funziona? Funziona come un normale contest, allora il regolamento o i requisiti per partecipare li trovate all'attività del video, però ve li voglio dire anche io al polo così. Dovete essere iscritti al canale, lasciate un like a questo video, condividete questo video, dovete lasciare un partecipo ovviamente a questo video. Che altro dovete fare? Dovete avere il canale pubblico in maniera tale che io possa verificare tutti quanti i requisiti. Eccoli qui i requisiti a schermo, l'estrazione del contest ci sarà dopo domani, quindi va bene, avrete qualche giorno in meno. L'account Netflix è per un mese, quindi potete vedere tutto Netflix quando e come volete. Detto questo, buona fortuna, un saluto a tutti, al prossimo video.